E' sbagliato. Allora, ritorniamo insieme e vediamo un altro pezzo del documentario che ci fa riflettere su altri aspetti. Entriamo nello specifico della legge Merlin. Poco prima che Togliatti aprisse con un discorso fiume un dibattito sulla politica estera che terrà impegnata per alcuni giorni la Camera, i deputati hanno approvato 385 sì, 115 no, la famosa legge Merlin. Merlin finisce così, senza più possibilità di appello, una questione decennale apertasi esattamente il 6 agosto 1948. L'Italia era ormai l'unico paese d'Europa in cui il problema sollevato dalla senatrice Merlin non fosse ancora stato risolto e anche di recente l'ONU aveva sollecitato l'Italia perché lo risolvesse, dato che il suo statuto impone a tutti i paesi membri di adottare una soluzione come quella che è stata finalmente adottata. Non dica la legge Merlin, non voglio che si dica Merlin. E perché non vuole avere... Ma non me ne importa niente perché è una legge che è dell'Italia, è vero? E allora dice direi la legge del numero 75. Questa legge del numero 75 alla quale è legato il suo nome. Alla quale è legato il mio nome, ecco precisamente. Ecco, adesso le faccio vedere... Perché anzi le posso dire una cosa, perché è giusto che io la dica. Quando fu votata, fu votato l'articolo 3, non più in commissione ma in aula dell'Assemblea Costituente, ci fu un parlamentare che era l'onorevole Beniamino De Maria, il quale pose questa questione e disse che dovrebbe cessare la regolamentazione della prostituzione. La legge numero 75 del 1958 abuli le case chiuse dove si svolgeva la prostituzione. E proibì allo Stato di lucrare su quella prostituzione. Lina Merlin si batte fuori e dentro dal Parlamento dieci anni per poter ottenere questa legge, che gli altri paesi europei già avevano da un pezzo, e negli anni successivi continuò a battersi perché questa legge non venisse fraintese. La senatrice Merlin non intendeva abolire la prostituzione. Era una donna politica pragmatica che capiva come andavano purtroppo le cose del mondo e quello che si era impegnata a fare era di fare in modo che lo Stato non fosse colui che lucrava, che percepiva danaro sulla mercificazione del corpo femminile. Mercificazione e soprattutto non lucrare sulla prostituzione. Non ha mai voluto mettere al bando la prostituzione, con estremo realismo peraltro. Era molto realista e viene definito non per nulla il lavoro più vecchio del mondo, anche se naturalmente per me non di lavoro si può parlare. Comunque questa era una legge che, come è stato detto anche da Zatterin, ci veniva richiesto dall'ONU, cioè perché l'Italia potesse aderire e partecipare all'ONU, doveva abolire appunto lo sfruttamento del corpo femminile da parte dello Stato. Dovremmo anche ricordare, perché forse molti non ne sono consapevoli, diciamo con il punto di vista odierno, queste donne che vivevano nelle case chiuse erano delle donne marchiate, cioè non erano cittadine come tutti gli altri, i loro diritti erano limitati da questo tipo di professione che svolgevano, i loro stessi figli non erano bambini come tutti gli altri, perché risultavano a tutti gli effetti figli di prostitute. Quindi il problema era ben più grande di come lo possiamo immaginare adesso, prostituzione in strada o prostituzione in casa. Queste donne erano delle persone con diritti civili sminuiti rispetto agli altri. Adesso certo sono passati 60 anni, il problema della prostituzione è anche molto cambiato con l'arrivo di queste donne straniere, spesso schiave. Anche secondo alcuni, per altri aspetti ci sono donne che lo farebbero per scelta personale, però la consulta l'altro giorno, pochi giorni fa, si è proprio pronunciata sulla legge Merlin ritenendola ancora valida e dicendo che in realtà nessuna donna, anche oggi, si prostituisce veramente per scelta personale. E secondo me questa è una cosa molto vera, perché anche quando uno dice, una donna o anche un uomo, perché voglio dire la prostituzione sia maschile che femminile, dice lo faccio per libera scelta, ci sono comunque dietro dei problemi personali, sociali, economici. Non è mai veramente fino in fondo una libera scelta. Intervenire comunque su una legge di questa portata, che aveva delle implicazioni anche giuridiche sostanziali, di non poco conto, perché si è appunto lo Stato che fino a un certo punto si è fatto garante di un certo sistema. È stato importante, però forse è mancato tutto un pezzo alla normativa, per cui si è scardinato un meccanismo, però non si sono create le condizioni per cui è successo quel che è successo. Cosa ne dice? Dunque, io dico che, come diceva giustamente bene Paola Lincetto, la Presidente, credo che dobbiamo dirci con chiarezza che la situazione dell'epoca non è un caso che ci fosse il richiamo dell'ONU al nostro paese, era una legge che di fatto permetteva la schiavitù nazionalizzata, cioè una roba abbastanza, no? Stiamo parlando di un ritorno quasi al 700 per alcuni aspetti, perché... Se non riusciamo a immaginarlo noi da... No, queste donne non potevano neanche tornare alla vita normale, erano recluse, erano private dei diritti civili e anche di un pezzo dei diritti umani, quindi trattate come le bestie, nel senso più brutto del termine. Allora, questo evidentemente non poteva essere in un paese civile. Lei ha avuto, diciamo, come al solito, come al solito Lina Merlin, donna coraggiosa, donna di grande prospettiva, donna che non si piegava a nessun tipo di convenienza, neanche economica, personale, ricatto, men che mai, è andata avanti per la sua strada, finché ha vinto la sua battaglia, ma naturalmente questa l'ha fatta odiare. Noi dobbiamo anche considerare il fatto che questa grande figura politica, ripeto, nazionale, di straordinario valore politico e civile, va bene, è stata praticamente denegata proprio anche perché, oltre che per le ragioni che abbiamo già detto, si è permessa di scrivere questa legge, e questa legge è stata, diciamolo pure, odiata, per questa legge lei è stata odiata, dal mondo maschile, da un pezzo importante del mondo maschile, persino di gran parte di coloro che sono stati in qualche modo costretti a votarla, perché il loro gruppo politico aveva deciso di votarla, e lo si vede anche questo, tra l'altro, dai documenti che abbiamo, eccetera, ma anche da un pezzo, naturalmente, del mondo femminile, perché all'epoca veniva considerato del tutto naturale e normale che un giovane, per esempio, dovesse sperimentare il sesso attraverso l'uso di queste donne prostitute. Quindi questa forma di schiavitù era entrata, come spesso accade, diciamo, in una mentalità corrente, ordinaria. Quello che è mancato, io credo, come dice Paola, adesso, quando è stato affrontato questo tema, anche nella diciassitesima legislatura, della possibilità di pensare a una legalizzazione, degli introiti provenienti dalla prostituzione, io, non avendo un'idea precisa in merito, nel senso che come, diciamo, cattolica e cristiana, e per persona, per come sono come persona, ritengo che la cosa fosse eticamente estremamente discutibile. Dall'altra, stavo pensando, potevano esserci dei vantaggi di un certo tipo. Bene, non ho approfondito ancora in maniera sufficiente, però dico che quello che ho letto rispetto, per esempio, a un incontro che ci è tenuto con un documento finale molto importante, rispetto alla situazione di circa un trentennio di prostituzione legalizzata in Germania, non è affatto positivo. Quindi, se stiamo alle esperienze vissute altrove, diciamo, di una prostituzione legalizzata, probabilmente scopriremo che la questione non è affatto né migliorata né risolta dal punto di vista sociale e neanche rispetto alle garanzie offerte, diciamo, a queste persone. Dallo Stato. Torniamo al merito. Prego. Allora, Gli aspetti sono due. Allora, uno, si parla della donna, della dignità, dall'altra parte si parla di una cosa, di un problema, chiamiamolo il problema, visto che qualcuno dice che è un problema, che... Ugo Zatterin. Ugo Zatterin, perché all'epoca l'ipocrisia arrivava. Esatto. Non si poteva neanche cipare. Comunque, è un... Non me ne volevo... Non vorrei offendere qualcuno, però, scusate, è un lavoro a tutti gli effetti. Adesso, chi sceglie di fare... La prostituta lo fa per scelta, perché ci sono siti di escort, c'è di tutto di più ed è tutto legale. Si può dire legale? Assolutamente. Per cui, faccio fatica a... Adesso c'è un altro mondo che è quello che nasce dal web. Nel 2019, io capisco cosa è successo... Cioè, posso capire cosa è successo 60 anni fa, perché voi avete parlato al passato. Giustamente, 60 anni fa, probabilmente queste ragazze erano inchiuse in questi più di 500 bordelli. Avevano dei padroni, probabilmente, sicuramente, avevano anche dei figli che non erano trattati come gli altri bambini. Adesso siamo arrivati al punto, è anche brutto da dire, che qualcuno per scelta, per mantenere i figli, fa anche questo. Per scelta. Forse non sono donne libere, forse lo Stato le dovrebbe aiutare in qualche altra maniera, ma c'è chi lo fa per pura, perché loro... Tu puoi leggere un sacco di testimonianze, ci sono donne che lo fanno perché gli va bene. Probabilmente, se io mi trovassi nella situazione in cui non lavoro, prima proverei di tutto, sicuramente non farei mai quel lavoro lì, sono sincera, però io non posso negare una scelta di una persona che decide di fare la escort. Non te lo posso negare. E poi c'è una cosa da dire, queste donne in strada, portate pazienza, ma è un problema, non di poco conto, perché il famoso problema della tratta delle donne, e qua vorrei dire perché ci sono le nigeriane che vengono qua, che gli promettono mare e monti. Allora, o in Africa hanno un problema, e non sanno effettivamente che se vengono qua e sono illegali, e non hanno un posto dove venire, non hanno nulla, si sa benissimo qual è purtroppo l'obiettivo di chi le porta qua. Ah beh, nella maggior parte dei casi è così. C'è l'obiettivo di quelli, sì, è l'obiettivo delle ragazze che non lo sanno. Avete capito, però non dirmi che tutte le nigeriane sono ingenue, perché allora probabilmente... No, pensano di, da puntato di anni, di liberarsi da questa formazione, si dedicano allo schermato. Non è un altro mondo, non significa che non lo so. Però volevo dire una cosa, ma non sanno che finiscono, molte sanno che finiscono in seguito. Ci sono dei casi disperati, perché probabilmente anche l'onorevole Puppato lo sa, a Pregranziol, comunque sulla regionale 11, sono disperati gli abitanti di quella zona lì, perché ovviamente si vanno ad appartare nelle vie residenziali. Cioè queste cose qua non possono succedere. Cioè una cosa, l'ordinanza che fa il sindaco dura quanto? Il tempo dell'ordinanza, manda fuori i vigili per sei mesi, però poi ricomincia tutto. Per cui, secondo me non è proprio una questione di dire, allora, se si norma di nuovo la prostituzione, vuol dire che tutto quello che è stato fatto in 60 anni scompare. Probabilmente, normandola, qualcosa di positivo si andrà a fare. Almeno io la vedo così, questa è una posizione che comunque... Vi ridò la parola assolutamente, anche l'avvocato Dalmaso prima, dopo vi passo di là. Un attimo sulla pubblicità. Io vorrei dire delle parole proprio... Sì, anche l'avvocato. Tutti e due, la mia posizione, quanto meno da giurista. Pubblicità pochi secondi, poi torniamo così possiamo anche tirare le conclusioni. Grazie. Grazie.